Il piacere di una casa con una vista spettacolare su lago e montagne, in un'oasi di verde e tranquillità, a due passi dal centro. Ad Abbadia Lariana, in una zona inserita in un contesto ambientale pregevole, Filca Cooperative sta realizzando la Residenza in Noce, un complesso di sole 9 unità con ampi balconi o giardino privato, dotate di tutti i più elevati comfort abitativi. Gli appartamenti, in classe energetica A, sono progettati con la massima cura, costruiti con materiali e finiture di alta qualità e con tecnologie che abbattono dell'80% i consumi energetici. Riscaldare una biocasa più Filca costa infatti meno di un euro al giorno. Prezzi da 193.000 euro, mutui a condizioni imbattibili, triplice garanzia per un investimento sicuro. Scegli l'eccellenza dell'abitare per te e la tua famiglia. Scegli Filca Cooperative.